proviamo a scartare la mazzocca, a sgranellare il mais c'è questo qua, posso boh, dovrà qualsiasi cosa, questo è un pezzo di ferro però proviamo un boh mettiamo i piedi qua poi si fa così vabbè, interessante se fa così, vedrà una cosa migliore però, cosa fa? si fa prima a mano, allora a mano si fa così la mano destra si prende la parte posteriore, anteriore o si invertisce la medesima cosa vabbè, guarda, faccio piano piano metto le dite così si stringe sembra facile però bisogna avere le mani esercitate da bracciante agricolo questi miei dita hanno sempre lavorato allora, vediamo adesso ve lo faccio da qui da vicino, vedete si mette la mano così la provo di prendere così la provo di prendere così vabbè, ognuno c'è la sua tecnica, avanti anche così anche così vabbè, adesso comincio, eh piano piano, vedete così faccio veloce, vedete giro no no sono finita sono finita già ci ne stavano vabbè queste passano le galline e mangia ho ho che so che sono ho 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 hai ho ho che